Più sport nelle scuole è uno degli scopi alla base del protocollo d'intesa siglato tra la provincia di Salerno e l'Associazione Italiana Calciatori presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino. Il progetto vedrà il coinvolgimento degli studenti in attività sportive ed educative con l'obiettivo di affiancare al percorso scolastico l'attività motoria e migliorare anche le relazioni tra i ragazzi che in orario curriculare seguiranno allenamenti e corsi formativi. Coinvolti nell'iniziativa anche calciatori e ex professionisti che terranno lezioni agli studenti e li seguiranno nelle attività sportive presso i loro istituti scolastici. L'obiettivo oltre a promuovere uno stile di vita sano e la pratica motoria è anche quello di creare una rete con le scuole coinvolte nel progetto affinché attraverso le difficoltà e i miglioramenti nello sport possano crescere e formarsi. Per noi è sicuramente una giornata molto importante perché noi come AIC portiamo avanti un calcio che sia un calcio educativo dobbiamo sgombrare il campo da quello che può essere l'esaltazione del talento quindi il calcio deve essere un messaggio, un veicolo di valori positivi perché comunque all'interno di questo meraviglioso sport ci sono tanti messaggi positivi a quale dobbiamo insegnare ai ragazzi. Ci sarà una prima fase di formazione proprio per il personale scolastico e quindi per i docenti poi ci saranno delle giornate con i bambini altri due appuntamenti un incontro finale poi che si terrà presso qualche struttura sportiva oppure anche presso una palestra delle scuole.